Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono Giovanni e oggi siamo arrivati al quinto episodio di Giova risponde La serie in cui io risponderò alle vostre domande che mi avete fatto su Whatsapp Perché i pochi me ne hanno fatte su Youtube Ah, e se non avete visto lo short che ho fatto tra Leatherface e Freddy Vi dico già che ho fatto con 7 miei amici Whatsapp E 4 hanno votato Leatherface e 3 Freddy Quindi il prossimo video sulle curiosità che uscirà dopo domani Sarà fatto, cioè no, che uscirà giovedì Scusate, mi sono darbugliato Sarà di non aprirla quella porta Quindi io non ho nessun problema a fare le curiosità su Nightmare Visto che non si deve preoccupare che ha scelto Freddy Lo farò come ho fatto con Halloween Quindi detto questo vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciare mi piace Detto questo ragazzi, iniziamo La prima domanda viene da Sergente Godzilla Che mi scrive Qual è il tuo film horror preferito? Allora, il mio film horror preferito è la saga di Halloween In premis il primo del 78 Anche altre sagge horror come Venerdì 13 Nightmare, Non aprivo la porta Scream, La bava l'assassina E anche altri film come Behind the mask, Troll 2, Non vi incazzate con me Killer Klaus from Outer Space E il bellissimo Sharknado Sì sì, lo sto rivalutando Ed è un horror Secondo me è un horror Poi la sua seconda domanda dice Il tuo youtuber preferito, tralasciando te stesso Io non gli ho mai detto che mi piace come youtuber Gli youtuber che sto seguendo di più in questo periodo sono Nick Radogna Che è uno youtuber che penso conoscerete tutti E Horrorbox Che ho già citato in moltissimi video Che fa video inerenti, film horror, riassunti Bellissimo Vi consiglio di andare a visitare tutti e due i canali che ho citato La sua terza domanda dice Hai mai letto un libro di FNAF? No, mai E non ne ho nemmeno uno Secondo me quelli che mi entusiasmeranno di più Non so se si dice così Quelli che mi piaceranno di più quando li prenderò saranno I Tales from the Pizzaplex e I Twisted Ones Silver Ice pure E l'altro, quel terzo là non me lo ricordo Ma anche come si chiama Non so se mi convince Quindi prenderò Tales from the Pizzaplex e I Twisted Ones La sua quarta e ultima domanda dice Ti hanno mai fatto appaien? Sì! Comunque Sta cosa mi fa incazzare Io mi avvicino allo mio amico Lui mi fa Io dico Cosa? Appaien? Che stronzata Guardate le persone si divertono facendo queste stronzate Io che mi divertivo guardando Goku e Vegeta a combattere Sì, dalla pancia di mia madre Ma ancora una La prima domanda Dica, caro Salvatore Dice Cosa ne pensi della saga di Abcet? È poco conosciuta Ma è molto carina Vero Abcet è una perla Che non si è quasi pagato nessuno Sono quattro film L'ultimo Victor Crowley Non mi è piaciuto tanto Ma i primi tre sono fantastici Victor Crowley E uno di quei serial killer Che se mi ritrovo davanti Mi uccide L'ho detto anche Uno serial killer più forti di sempre L'ho detto in un precedente Giova risponde Che se si dovesse trovare Di fronte al Jason umano Quello dei primi quattro film Lo uccide Il Jason zombie è immortale Quindi lo batterebbe facilmente A Victor Crowley Ma Victor Crowley È entrato anche in una delle nuove icone Cioè È diventato una delle nuove icone Secondo me Dello slasher moderno Insieme a Darth The Clown I due babyface Di Le colline annoio Eh Le colline annoio Le colline sanguano E auguriamo la tua morte Leslie Vernon E lo Skull Chrome Ho detto anche Chrome Skull La sua seconda domanda Dice Cosa ne pensi di Fall Guys Se secondo te è un gioco morto No assolutamente no A volte ci gioco Fall Guys Sulla mia Nintendo Che sta all'insoggiorno Prima lo aveva aperto Un po' per vedere le cose Che non lo apro da quasi un mese Ma secondo me Un gioco non è mai morto Fall Guys Ha avuto il suo periodo di Spopolamento Nel 2020 Poi è stato soccrassato Da quello scempio Di Stumble Guys E poi vabbè Ma secondo me Un gioco è morto Quando i produttori Lo tolgono Da qualsiasi piattaforma La sua terza domanda Dice Cosa ne pensi Di Dragon Ball Kai È una serie Molto sottotutata Ma secondo me Merita molto Sì Dragon Ball Kai È fantastico Ah Per chi non lo sa Dragon Ball Kai È il remake di Dragon Ball Z Con la grafica Di Dragon Ball Super Quindi un remake Shot for shot Le scene di Z Fatte con la grafica Di Super È fantastico Peccato che non l'abbiano Mai trasmesso In televisione Una volta è capitato Che l'hanno trasmesso Pure per errore E io stavo guardando Italia 1 Se non mi sbaglio Era mattina Non mi ricordo Però La sigla di Dragon Ball Kai È fantastica Ve lo dico E secondo me Se un giorno Lo dovesse trasmettere In tv Molte persone Lo guarderebbero Molti non lo apprezzano Perché dicono E vabbè Dragon Ball Z È migliore Certo È migliore Di Dragon Ball Kai Ma Dragon Ball Kai Non è da buttare Secondo me Poi Adesso Vediamo una domanda Che non è di Giovanni Spode Ma L'ho trovata sotto Ad un mio vecchio video Di un tizio Che si chiama Cartoni morti 2866 Che non ha scritto Giovanni Spode Però l'ho considerata Una domanda Di Giovanni Spode E lui mi chiede Cosa pensi La morte di Malefica Bella addormentata nel bosco La bella addormentata nel bosco Non è un film Che mi ha Mai entusiasmato Il film con le principesse Li detesto E il miglior film della Disney Sarà sempre Ed è Il Re Leone Secondo me Però la morte di Malefica Fa paura Ti mette una caga Cioè per un film per bambini Una morte dove un drago enorme Viene conficcato Da una spada E gli esce pure il sangue E cade poi Mi sbaglio Nell'acqua muore È spaventoso Dal punto di vista di un bambino Fa veramente paura Poi L'ultima domanda Di questo video Dice Ti andrei a vedere il film di FNAF E che ti aspetti Vedendo il trailer Questa domanda Me l'ha fatto un mio amico Su Whatsapp Di nome Gabriele A cui mando un grandissimo saluto Il trailer Mi è piaciuto Mi è entusiasmato Tutte e due E vedendo Springtrap Ho grandi aspettative Però la cosa che forse Non mi entusiasma tanto Del film Che gli animatronics Hanno gli occhi rossi Cosa che non è mai successa Se non in alcuni casi Come Nightmare In FNAF 4 Non è mai successa Però Questo film Se ne deve occupare La Blue Mouse E hanno fatto bene Perché è la casa di produzione Che può fare veramente Un film di FNAF E ragazzi Questo era il quinto episodio Di Giova risponde Spero che vi sia piaciuto Lasciate un piace E iscrivetevi al canale Noi ci vediamo Ad un prossimo video Che saranno Le 40 curiosità Se non aprite con la porta Uh Chi è? Leatherface Ciao Leatherface Come stai? Allora Vuoi venire ospite Al video delle 40 curiosità? Ah Devi cucinare Delle persone Ah Ok Va bene Cacchi tuoi Chiedo al mio cugino Vincenzo Se può venire come ospite Aspetta che mo' lo chiamo Oh Chi è che mi sta chiamando? Ma non lo so Oh Chi è che mi sta chiamando? Vinci? Ciao Ti sto proprio per chiamare io Allora vuoi venire ospite Alle 40 curiosità Di non aprite quella porta? Eh 40 20 Scusa Vedendo troppo horror box Cosa? Ti stanno cucinando Allora vuoi venire ospite